Se succedono fatti gravi come testimoniano gli ultimi fatti di cronaca con l'accoltellamento del giovane 33enne salernitano ma il quasi immediato arresto del responsabile 19enne di Vietri sul mare è la testimonianza che la prevenzione funziona e il commento del questore di Salerno Maurizio Ficarra che traccia un bilancio positivo per la pena trascorso ferragosto che grazie al controllo del territorio di tutte le forze dell'ordine non ha fatto registrare eventi delinquenziali che hanno fatto vacillare l'obiettivo di garantire a cittadini e turisti un ferragosto tranquillo. Nel report fino ad oggi non risultano denunce per furti in appartamenti ed attività commerciali. Più difficile però in questo momento ha dichiarato il questore Maurizio Ficarra fare controlli per il rispetto delle normativi anti-covid che della microcriminalità diffusa facendo riferimento alle sanzioni che sono state elevate anche in questi giorni a gestori di locali non rispettosi della legge. I salernitani sono rappresentati nel loro vertice massimo dal sindaco il quale sindaco in ogni occasione ci dice che lui si compiace del fatto che in questa provincia in questa città in particolare tutte le volte che succedono fatti gravi è solo questione di tempo e anche voi l'avete visto e se questiona a volte di giorni a volte di settimane a volte qualche mese però noi riusciamo sempre a individuare i responsabili e questa è prevenzione cioè il sapere certi delinquenti che noi comunque prima o dopo li becchiamo è prevenzione quindi i salernitani possono stare tranquilli perché al di là di quello che vedono delle pattuglie che vedono sul territorio e io so che ogni cittadino piacerebbe vederne una ogni angolo di strada questo purtroppo non è possibile per i numeri però poi c'è un'attività investigativa che non si ferma neanche a ferragosto voi l'avete visto anche nel mese di agosto quindi io mi sento di rassicurare i cittadini salernitani che tutte le forze di polizia della provincia e la polizia di stato in particolare ha un'attività incessabile dal punto di vista prima del controllo del territorio e poi della ricerca in tutte le direzioni delle violazioni che vengono fatte in materia di emergenza sanitaria che di altro il potenziamento infatti dei controlli per questo ferragosto così come l'hanno passato hanno visto in campo gli uomini di polizia impegnati su due fronti da un lato per combattere la criminalità diffusa dall'altro per verificare l'osservanza di norme anti covid abbiamo ritrovato ancora una volta però locali dove erano assembrate tante persone a svolgere attività di ballo che in questo momento ricordiamo sono vietate si purtroppo guardi paradossalmente devo dire una cosa che magari forse vi sconvolgerà ma è più difficile fare gli accertamenti e fare i controlli in questa direzione che non nei confronti dei delinquenti o dei farabutti di cui sappiamo benissimo come si comportano a volte li conosciamo pure mentre invece per quanto riguarda gli assembramenti questa voglia che hanno molti giovani e molte persone anche non giovanissime di divertirsi nella migliore maniera possibile ci crea qualche difficoltà e siamo stati costretti ad intervenire in diverse situazioni chiudendo dei locali dove purtroppo non si erano rispettate le norme anti covid noi continuiamo perché stiamo vedendo che fortunatamente questo lo dico per la città per tutti i lavoratori fortunatamente i turisti stanno tornando sono tornati e sono in giro e noi quindi potenziamo i nostri servizi noi ogni settimana se voi guardate il report settimanale li guardate sicuramente ci sono numeri che sono impressionanti sul numero di migliaia di persone controllate di locali chiusi e di interventi che fanno le forze di polizia quindi anche per i prossimi weekend noi metteremo in campo ogni settimana facciamo un tavolo tecnico in questura e coinvolgiamo tutti noi coinvolgiamo non solo la polizia di stato i carabinieri la guardia di finanza ma coinvolgiamo la capitania di porto che ci dà una mano dal mare abbiamo le nostre moto d'acqua sul mare per fare i controlli relativi e coinvolgiamo tutte le forze di polizia municipali e provinciali in questa attività di controllo grazie 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 grazie